In il dopogare del trepovo guerra a Gozzano, partita finita sull'1-1, abbiamo ascoltato le voci dei due tecnici Dossena per l'oltrepovo guerra, Viganò per il Gozzano e poi Angelo Buglia, autore del gol dell'1-1 dei Rossoneri Dopogare del trepovo guerra a Gozzano con il mister degli ospiti Walter Viganò Allora mister questo pareggio la soddisfa o forse potevate fare qualcosa in più? No, al primo tempo non abbiamo fatto bene perché il sistema di gioco, questi ragazzi con il 5-3-2, 3-5-2 facciamo fatica Però non avendo ali sani a parte Sara era quasi una soluzione costretta Poi nel secondo tempo abbiamo tenuto un pochettino meglio il campo, abbiamo cercato di giocare anche noi Però nel secondo tempo qualcosa in più è stato fatto, il primo tempo non siamo soddisfatti Mister anche il passaggio al 4-3-3 forse ha contribuito a dare un po' più di vitalità offensiva al Gozzano Ma noi abbiamo giocato per due anni così, poi sono venuti a mancarci Sara e Lunardon Non avendo più le ali abbiamo perso l'identità inventandoci di settimana in settimana diversi moduli di gioco Per mettere i calciatori nelle loro caratteristiche Mister adesso c'è anche il discorso che potrebbero ridarvi i tre punti di Sestri E comunque ci credete ai play-off? Sono ancora alla vostra portata? Sì, mi sembra che la quinta, adesso i risultati non lo so, ma forse sono due punti Quindi è ancora possibile e ci proviamo Se giochiamo come il primo tempo è meglio non provarci L'ultima battuta, Mister Max Guidetti, sempre infallibile quando capita l'occasione Un giocatore che farà gol anche tra dieci anni forse Sì, indubbiamente ha fatto un gran gol perché è la sua specialità Però così magari un po' più di supporto Però Guidetti è un mostro sacro Dopo gara di Oltrepovo Guerra a Gozzano con Mister Dossena Mister un 1-1 che però lascia un po' di rimpianti Anche oggi quella che ha cercato di più la vittoria che forse la meritava anche è stato l'Oltrepovo Guerra Un film che abbiamo già visto tante volte ultimamente Penso che abbiamo fatto un'ottima partita Non concedendo neanche un tiro in porta al Gozzano Tranne il calcio di punizione che poi ha fatto gol a Guidetti Abbiamo avuto un atteggiamento giusto, propositivo Ho visto delle buone cose E perciò questo per un allenatore è importante Qualcuno poteva pensare a una squadra un po' distratta Anche lo stesso Viganò ce l'ha confinato Dicendo che appunto si aspettava una squadra magari un po' più col pensiero verso la Coppa Invece l'avete approcciata bene con determinazione e con voglia come avevi chiesto Sì sì, questa è una squadra fatta di uomini E io sono convinto che noi le motivazioni a prescindere dalla posizione della classifica Dobbiamo entrare in campo sempre più motivati degli avversari Perché dobbiamo onorare la maglia, dobbiamo dimostrare che comunque siamo squadra E oggi penso che delle due sembrava avessimo più motivazioni noi di loro Perché arrivavamo prima su tutti i palloni E abbiamo impostato secondo me una squadra, una partita giocando a calcio Come ci succede tante volte Penso che Cizza abbia fatto un rinvio E questo è importante per un allenatore vedere questa squadra che gioca a calcio E' chiaro che dobbiamo essere più bravi oltre alla mole di gioco a finalizzare tutto ciò che creiamo Mi sto spostando già il discorso su mercoledì Dicevi che anche questa partita ti sarebbe servito un po' come esami, come testo generale Che tipo di indicazioni ti ha dato? A livello generale magari se qualche singolo ti ha colpito più degli altri Ho visto una squadra concentrata, una squadra sul pezzo Ho visto una squadra vogliosa di fare bene Abbiamo lavorato da squadra, ho visto un sacrificio da parte di tutti E anche coloro che sono entrati poi nella ripresa hanno fatto bene E hanno dimostrato di mettermi in difficoltà Oltre a quelli che hanno giocato anche quelli che non hanno giocato Perciò questo per un allenatore importante è avere il gruppo squadra che è sul pezzo E le scelte ora toccheranno a me Questa è l'ultima cosa, forse il rammarico vero non avere Buglio mercoledì Oggi ha fatto un partitone Sì sì, sicuramente Buglio rappresenta un giocatore faro per noi, importante Come Tonon, comunque perché in questo periodo sta facendo molto bene Però dobbiamo pensare a chi c'è, chi giocherà Che sicuramente non farà rimpiangere i compagni Pur parlando di un giocatore o due che hanno uno spessore importante Dopo gara di Oltre Pavo Guerra a Gozzano Con Angelo Buglio oggi il grande protagonista Oltre al rigore dell'1-1 forse in assoluto il migliore in campo di Oltre Pavo Guerra Angelo oggi la testa è rimasta qui sul campionato sul Gozzano Come aveva chiesto il mister Sembrava l'Oltre Pavo Guerra quella più motivata tra le due Ma sì, volevamo fortemente tornare alla vittoria Perché è da tanto che ci manca C'è stato un approccio importante Abbiamo cercato di caseggiare, di giocare C'è mancato un po' l'ultimo passaggio Le conclusioni Però diciamo che se c'era una squadra oggi in campo che doveva vincere Era Oltre Pavo Guerra Abbiamo creato tanto E sull'unica loro occasione abbiamo preso il gol Ma il resto è un po' tutto l'anno che ci succede Quindi diciamo che non è più nemmeno un caso Ma purtroppo non è la prima volta Che ci fanno un mezzotino a porta e prendiamo gol Angelo, voi che spiegazione vi siete dati di questa sterilità offensiva Di questa fatica a concretizzare Visto che comunque come prestazione, come qualità di gioco La squadra si esprime sempre con una certa continuità Il problema è sempre questo gol che fatica ad arrivare Ma sì, perché poi alla fine ci arriviamo spesso e volentieri A concludere Magari ci vuole un po' più di cattiveria Un po' più di fortuna Perché magari ci manca anche quella ultimamente E niente, dobbiamo allenarci anche in allenamento E cercare di concretizzare tutte le occasioni che abbiamo anche in allenamento Adesso spostandoci già sulla grande partita di mercoledì Il grande rimpianto che c'è un po' tutto nell'ambiente dell'oltre poco guerra Sarà Buglio squalificato Tu, quanto ti dispiace non essere presente mercoledì nella partita Che vale un po' quasi la stagione per la squadra? Io sono sempre arrabbiato da quella munizione di Caravaggio Purtroppo è andata così Mi dispiace tantissimo Perché ci tenevo come tutti a giocare questa partita fondamentale Però so benissimo che chi scenderà in campo farà bene Perché questa partita è troppo importante E ci teniamo tantissimo a arrivare in finale E giocarci la finale a Firenze Angelo, un'ultima nota anche sulla tua condizione atletica Arrivare a 36 anni ad aprile con questi caldi E correre dal primo novantesimo Vuol dire che sei un professionista esemplare Quello è un po' il segreto di Angelo Buglio Sì, io ho sempre cercato di curare tutto Mi alleno bene, mi alleno con voglia Mi alleno con entusiasmo E quando c'è quello credo che vai avanti Finché te lo concedono Io sto bene E niente Spero di giocare altri anni Grazie